Il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre scorso non è ancora stato pubblicato nella gazzetta ufficiale e già si stanno diffondendo voci di un ritardo dovuto ad un intervento del Presidente della Repubblica. Per la verità ad oggi sono trascorsi 14 giorni dalla approvazione e siamo quindi di fronte ad un ritardo che pur essendo piuttosto consistente non è affatto inusuale. Appare piuttosto improbabile l'ipotesi che il Capo dello Stato abbia deciso di non firmare il decreto rispedendolo al Governo. È vero invece che ci sono un paio di punti del provvedimento che potrebbero avere bisogno di qualche approfondimento, di qui la necessità per l'ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione di avere un po' di tempo in più per limare il testo ed evitare rischi di illegittimità. Stando alle informazioni in nostro possesso in questo momento le questioni più delicate sarebbero due. Una è relativa agli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA pur non avendo il titolo di studio richiesto. La seconda riguarda la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie per accedere al concorso straordinario aperto ai docenti della scuola secondaria. Nel primo caso sembra che le motivazioni adotte per sostenere la stabilizzazione del personale amministrativo siano piuttosto deboli. Dire che gli assistenti amministrativi vanno assunti perché hanno svolto funzioni superiori per diversi anni potrebbe essere un po' poco e quindi andrebbe trovata una strada diversa. La mancata valutazione del servizio prestato nelle paritarie invece potrebbe porre addirittura una questione di legittimità costituzionale. Su questo il Movimento 5 Stelle sembra intenzionato a tenere il punto, mentre gli altri alleati di governo, Italia Viva in particolare, chiedono la piena equiparazione dei servizi prestati nelle statali e nelle paritarie. Ma è anche probabile che il ritardo sia legato ad un sottile calcolo di carattere procedurale. Infatti, se il decreto andrà in gazzetta la prossima settimana o addirittura nei primi giorni di novembre, ci sarà tempo fino a inizio gennaio per convertirlo in legge. La conversione quindi potrebbe arrivare dopo l'approvazione della legge finanziaria e quindi con qualche garanzia in più sotto l'aspetto della copertura di spesa. Ovviamente su questo tema vi terremo sempre informati sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Quindi continuate a seguirci, a leggerci, ma soprattutto continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni e i vostri commenti di cui noi daremo conto.